La processione penitenziale della chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino verso la Basilica di Santa Sabina è stato il primo passaggio per entrare nello spirito del mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. Nell'Omelia della Messa Papa Francesco è esortato a ritornare al cuore misericordioso del Padre perché la Quaresima è la via per arrivare a Lui, la strada che va dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. Le ceneri, aggiunto, ricordano che siamo polvere, ma nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo. Soffio che salva dall'asfissia degli egoismi, delle ambizioni, delle indifferenze, dall'asfissia che spegne la fede e raffredda la carità. Quaresima è il tempo per dire no. No all'asfissia dello spirito per l'inquinamento causato dall'indifferenza, dalla trascuratezza di pensare che la vita dell'altro non mi riguarda. Per ogni tentativo di banalizzare la vita, specialmente quella di coloro che portano nella propria carne, il peso di tanta superficialità. La Quaresima vuole dire no all'inquinamento intossicante delle parole vuote e senza senso, della critica rozza e veloce, delle analisi semplistiche, che non riescono ad abbracciare la complessità dei problemi umani, specialmente i problemi di quanti maggiormente soffrono. La Quaresima, concluso il Papa, è il tempo per tornare a respirare, per fare spazio al bene, per far sì che il soffio di vita di Dio trasformi la nostra polvere in polvere innamorata. Dopo la benedizione delle ceneri e dopo averle ricevute dal cardinale Iosef Tonko, titolare della Basilica di Santa Sabina, il Pontefice le ha imposte sul capo di alcuni fedeli presanti.